Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter, come sempre. E naturalmente prima di cominciare vi ricordo come al solito che sotto in info box trovate il link alla mia vetrina Amazon dove ho trovato una selezione di prodotti potteriani e non scelti da me e acquistando tramite la mia vetrina Amazon aiuterete il canale a crescere, quindi contribuirete alla crescita del canale. Vi ringrazio in anticipo. Trovate anche il link a Pampling dove utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete sempre un paio di calzini omaggio con ogni vostro acquisto di qualsiasi importo e il mio codice sconto come al solito è accumulabile con tutte le iniziative in corso di Pampling. La maglietta che indosso a tema Harry Potter è naturalmente viene da Pampling, ormai la conoscete, è una delle mie preferite ma ne trovate di tantissimi altri fandom e di tantissimi altri modelli. Trovate anche le felpe, le canottiere, trovate gli zaini, le cover per il telefono. Ragazzi, di tutto e di più. Ormai vi parlo di Pampling da anni. Ma detto questo, ragazzi, finalmente avete già visto cosa c'è accanto a me. C'è la famosissima, almeno per me, candela, colonna vertebrale. A forma di colonna vertebrale. Ragazzi, questa è stata davvero un parto. Io l'ho vista girare sui social, su Instagram, anche su Vinted si trova. E molti la vendono a caro prezzo, oltre i 30-35€, perché si tratta di un prodotto non ufficiale, ma si tratta di un prodotto soprattutto stampato in 3D. Io ho stampato questa con la mia Elego Mars, quella che vi ho mostrato quest'estate, ma non l'ho fatto da solo, perché è un po' complicato stampare questo pezzo. Sono sei pezzi stampati, quindi sei stampe differenti, tutte unite. Le ho attaccate con della colla molto potente. Poi ho passato anche sopra dello stucco per eliminare le giunture. L'ho poi colorata con i colori acrilici. Quindi c'è stata tutta una lavorazione dietro. Ma per la stampa sono stato aiutato da un mio caro amico, Samuel, che trovate anche su YouTube. Vi lascio il link sotto in info box al suo canale, che si dedica appunto alla stampa 3D. Infatti mi ha aiutato a elaborare i file, mi ha aiutato anche a stampare. L'ha stampato, una parte l'ha stampata lui con la sua stampante. Quindi è stato un po' un lavoro di team, perché è un pezzo, come vedete, molto grande e molto impegnativo. E mi ha stampato anche questo pezzo qui, che è la base dove attaccare questa candela. Purtroppo però chi l'ha disegnata, chi l'ha realizzata, non ha fatto i conti col peso della candela. Infatti se io dovessi attaccare questa qui su questa base, cappotterebbe nel giro di mezzo secondo. È troppo pesante la candela, è troppo leggera la base. Quindi inizialmente avevo pensato di attaccare un peso, un peso, quello là in gisa, nero, da mezzo chilo sotto la base. Ma praticamente sembrano spariti. È impossibile trovare un pesetto da mezzo chilo in gisa. Sono stato da Decathlon, ho cercato su internet. O si trova a prezzi folli, o sono esauriti ovunque, in tutti i negozi di articoli sportivi. Quindi al momento questa cosa della base l'ho un po' messa da parte e avevo anche acquistato questo piattino in vetro che è piuttosto pesante e volevo attaccarla su questo piattino per dare comunque una base. L'ho dipinto in oro e in questo color ocra, ma una volta attaccata la candela sul piattino con la colla, si è praticamente disintegrato il colore che avevo passato e si è staccata immediatamente dalla base. Quindi è stato un fallimento su tutti i fronti. E a questo punto credo proprio che la terrò così, senza base, e la metterò nella mia collezione. Qui in alto troviamo un vano che è stato pensato apposta per inserire una candela vera, una T-Light, che va a calzare a perfezione qui sulla parte superiore. Quindi è possibile anche accendere la candela e utilizzarla come porta candele. E per chi non avesse ancora capito da quale scena è tratta questa candela, questa candela la vediamo nell'ufficio del professor Lupin in Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Quindi in quella scena lì si trovano queste candele, c'è anche il professor Lupin che se non sbaglio ne accende una con un gesto della mano. Mi piace, mi è sempre piaciuta, mi è piaciuta molto questa candela. E quindi quando ho visto che era possibile stamparsela a casa in 3D ho smosso Mari e Monti. E finalmente eccola qui nelle mie mani. Io spero si veda abbastanza bene perché ultimamente con il bilanciamento del bianco nei video i colori molto chiari vanno bruciati. Quindi spero si veda ma comunque ve la mostro anche più da vicino con un close up. Ma ragazzi è molto semplice ma per me è molto molto bella. La volevo da tempo quindi super contento. Ma ragazzi non è assolutamente finita qui perché c'è un'altra cosa che voglio mostrarvi. Un altro acquisto fatto su Vinted. Noble Collection questa volta. Ed è un prodotto che ho visto spesso e volentieri su Amazon. Ma non l'ho mai acquistato perché il prezzo mi sembrava spropositato. Costa circa 45 euro su Amazon e io l'ho pagato 20 euro. Quindi meno della metà. 20 euro ve lo dico già adesso secondo me è il prezzo limite per acquistare questo prodotto. Nel senso che non vale secondo me oltre 20 euro. È il prezzo giusto. Il prezzo al quale secondo me dovrebbe essere venduto questo oggetto su Amazon o nei negozi. Perché 45 non è giustificabile a parer mio. Ed eccolo qui. Si tratta di questa scatolina. Questa scatolina che contiene la penna e il calamaio ufficiali di Hogwarts. Abbiamo questo nastrino che chiude la scatola. La scatola è molto carina perché abbiamo appunto la penna. Abbiamo lo stemma di Hogwarts. E questa vista di Hogwarts sul retro. Non si vedrà mai ma c'è anche il logo Harry Potter in nero su marrone con tutte le varie licenze. E questo nastrino giallo è un po' macchiato. Qui c'è una macchia nera. Mi era stato detto era presente nelle foto ma chi se ne frega visto che l'ho pagato 20 euro. E andiamo a vedere cosa contiene al suo interno. Al suo interno ecco cosa troviamo. Troviamo una penna, una vera piuma. Quindi questa è vera e la parte finale troviamo appunto la punta di metallo col suo calamaio. E ecco qui. Troviamo anche una boccetta di inchiostro. Chi me l'ha venduto mi ha detto che l'ha utilizzata una volta scritto con questa penna. Anche se devo dire che è pulitissima, non è macchiata. Però la bottiglietta di inchiostro è quasi vuota. Ce n'è pochissimo. Ce ne sarà circa un centimetro. Ma non mi interessa perché non voglio utilizzarla per scrivere. E la cosa che secondo me aumenta realmente il valore di questa confezione è appunto il calamaio, questo qui, il porta inchiostro. Perché è realizzato molto bene. È in ottone e legno. Quindi comunque è piccolino ma ben realizzato. La piuma è leggerissima, peserà non lo so 20 grammi. Tutto il peso è dato dalla punta di metallo. E abbiamo questa piuma che naturalmente in ogni box è diversa perché non sono tutte uguali. Essendo vere piume non sono tutte uguali. Quindi a me è capitata questa qui che però comunque è carina. Quella in foto, quella che vedete in foto magari su Amazon è completamente diversa. Ma semplicemente perché viene spiegato che le piume sono random. E poi appunto abbiamo il porta inchiostro. Eccolo qui che è molto molto carino. Sembra quasi uno di quei campanelli degli hotel quando chiamate il tizio alla reception. Ma è molto carino. La base è in legno quindi questo è un punto a favore di questo prodotto. Sotto la base troviamo dei piedini morbidi con il logo Harry Potter e tutte le licenze. Quindi prodotto ufficiale. E poi abbiamo anche uno stemma di Hogwarts qui sempre in metallo, in ottone, credo sia ottone. Attaccato qui sulla parte frontale. Quindi molto bello. All'interno abbiamo una spugnetta. Inserendo la punta della penna si sente che c'è una sorta di spugnetta. Dove andare a versare il nostro inchiostro. Ed ecco qui. È molto semplice. C'è tutto qui. Questa va inserita qui dentro. Non c'è molto altro da aggiungere. È un pezzo molto carino che sicuramente mi fa piacere avere in collezione. Ma non è niente di eclatante. Non è niente di fondamentale nelle collezioni. Io ho tante cose. Quindi ok. Prendo anche questo. Anche perché ve lo faccio vedere. Lo porto sul canale. È la scusa che utilizzo per ogni mio acquisto. Ma per un collezionista alle prime armi. Per chi ha cominciato adesso a collezionare. Per 20 euro consiglio comunque di prenderlo. Ma non consiglio di spenderci più di tanto. Perché ci sono altre cose decisamente più belle da acquistare. Per chi sta cominciando adesso. Ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate in infobox. Se lo avete. Se pensavate di acquistarlo. Se l'avevate visto su Amazon. Io comunque vi lascio sotto in infobox il link. Anche per acquistarlo. Qualora qualcuno di voi volesse comunque prenderlo. Naturalmente trovate tutto sotto in infobox. Io adesso vado a posizionare finalmente la mia candela. Che tengo in una borsa da due mesi. Perché volevo farvela vedere prima di posizionarla. Nella mia mensola. Nella mia collezione. E andrò anche a posizionare la mia nuova piuma. Che andrà comunque ad arricchire la mia collezione otteriana. Bene ragazzi. Detto questo. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale quando non foste ancora iscritti. Consigliate il canale ai vostri amici. Seguitemi su Instagram. Antonio.seria. Perché ultimamente sono stato più attivo su Instagram. Che su YouTube. Ragazzi. Io adesso chiudo il becco come al solito. Vi saluto. E vi do appuntamento. A presto. Con un nuovo video. Ciao. 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 Ciao.